Perché a noi questo piano ci viene fuori attraverso la convenzione con la Easy Help che gestisce i parcheggi e quindi all'interno di questa convenzione ci viene proposto questo piano che sembra più il piano della Easy Help perché l'amministrazione ha già detto che non è il suo piano, parla di bozza, parla di possibilità di revisione totale ma a questo punto non era meglio fare prima un incontro con le commissioni, con i cittadini a dirsi prima e poi avere, già che questo è anche un costo, uno strumento da adottare che almeno all'80% poterà andare bene in questa maniera francamente noi abbiamo un piano che è da rifare totalmente adesso ne parleremo, riceviamo le osservazioni, però dopo lo dovremo stravolgere quindi un piano da cambiare, non c'è stata una partecipazione, io l'ho detto, questo soltanto non sia una nota polemica ma non vi comportate così in altre occasioni, cioè la procedura avrebbe voluto far vedere ai consiglieri come ha detto bene Antonetti, nei metodi e nei tempi giusti perché noi siamo la prima espressione, noi siamo gli eletti del popolo, la prima espressione della città visto un confronto con i consiglieri giustamente si apre a tutti i portatori di interesse a tutti i cittadini e dopo si rifà una sintesi in consiglio perché politica vuol dire scendere questo purtroppo non è avvenuto, non ci mascheriamo dietro un dito ma non deve succedere più un'altra inesattezza da parte dell'assessore, il PUMS va redatto per città sopra a 100.000 abitanti Teramo quindi non è interessata, vogliamo strafare? Va bene, diciamo che Teramo non ha nemmeno questo grande inquinamento perché il centro storico non è inquinato e non ci sono problemi di traffico i rilievi sul piano, rappresentate tutti i punti in cui sono stati fatti i rilievi, sono stati fatti fuori dal centro e dopo si chiude il centro in un'altra area che ancora non l'ha capito bene la cittadinanza l'area in cui si propone di fare una ZTL è nel quartiere della stazione tra via Fonte Regina, via Roma, via Le Crispi e via Bo quindi si misura il traffico e l'inquinamento magari in via Bo e poi si chiude il centro storico in questa maniera noi inquiniamo ancora di più Piazza Calipardi che è un nodo pericolosissimo di Teramo magari per l'inquinamento perché se non c'è nemmeno il centro che drena qualche cosa il traffico va a mettersi tutto quanto a ridosso quindi a che serve il PUNS? è un piano culpante per la mobilità sostenibile e quindi creare delle alternative alla mobilità cosa che qui non vediamo, l'alternativa dovrebbero essere i piedi insomma perché andare a piedi in centro ma nel merito c'entri a Europa allora io che vi dico, siccome la legge è recente del 2017, 5 agosto, non ricordo il numero lo prevede che ci sia, l'adozione da parte dell'Aggiunta secondo me può venire l'adozione dopo un minimo confronto magari anche in maggioranza perché credo che neanche in maggioranza ci sia una convinzione lo stesso assessore dice che su alcuni punti non lo condivide quindi ha recepito un piano che è il piano della ICF non è il piano del comune di Teramo poi c'è la fase di partecipazione, quella che stiamo facendo bene e meglio e alla fine è l'approvazione però c'è una fase intermedia molto importante tra questa partecipazione dopo l'adozione e l'approvazione finale questa fase è la fase della revisione prevista dalla legge noi quindi vi chiediamo fin d'ora che questa proposta di piano venga revisionata e poi approviata in giunta quello che è il vostro piano magari se c'è anche qualche contributo nostro meglio ancora perché poi l'approvazione in consiglio va ancora più spedita quindi la fase della revisione è intermedia e siccome non è vero che è un obbligo per Teramo perché Teramo non ha questo inquinamento per la sua conformazione orografica la città tra i fiumi, i vendi dominanti non c'è questo problema che vi è in altre realtà urbane quindi non c'è questo problema grande dell'inquinamento per cui tu devi trovare delle alternative non siamo una città di 100.000 abitanti almeno facciamo un piano che è qualcosa in più comunque con tutti i problemi che abbiamo si dovrebbe vedere perché il problema del centro storico è un altro quello dell'accessibilità ce lo vogliamo fare non è siccome l'assessore diceva un piano di fondamentale importanza secondo me non lo è perché Teramo non ha 100.000 abitanti e non abbiamo questi grandissimi problemi di inquinamento lo vogliamo fare anche se gli stiamo dando una priorità rispetto ad altre cose perché fino a ora non è che stiamo facendo e producendo un gran che allora questa fase di revisione che si aveva e non si agisce di più lo spauraccio entro 30 giorni noi veniamo in consiglio e lo approviamo no, adesso vi diamo tutte le indicazioni vi facciamo altre commissioni diamo queste indicazioni ai progettisti i progettisti le rielaborano facciamo un piano che serve alla nostra città dopo entriamo nel merito di quello che serve e le idee abbiamo ad esempio quello che servirebbe a Teramo una bella spianata fuori Teramo in cui tu hai dei parcheggi e fai anche a 2 euro al giorno un poveraccio io vedo i miei colleghi a scuola in drama perché Teramo è diventata inaccessibile non si può parcheggiare più abbiamo delle alternative abbiamo bisogno di autobus abbiamo bisogno di tante cose rifacciamo questo piano e io sono pronto a votare un piano che serve a Teramo ridimensionato non con queste mele agente ATL e a votarlo anche noi in consiglio l'alternativa perché poi volevo andare avanti così però noi archiveremo tutte le forme di protesta e anche di ostruzionismo e tutto quello che ci compete per impedirvi di perpetrare uno scelto nella nostra città ora voglio ascoltare i progettisti perché vorrei dare un contributo a loro che non c'entrano niente perché dovranno eseguire il nostro piano quello che uscite su misura per Teramo e quindi dare il massimo del contributo nostro e fare sì una fase di ascolto di stakeholder quant'altro possa dotarci di questo strumento se lei riuscirà a fare questo assessore avrà sicuramente la mia schia grazie a tutti grazie a tutti